A Proda in provincia l'evento internazionale dedicato all'Orienteering Five Days of Italy, capace di coinvolgere appassionati di questa disciplina da tutto il mondo. Dal 30 giugno al 4 luglio, infatti, Auronzo, Misurina, Tracime di Lavaredo, Comelico Superiore e Padola rappresenteranno la cornice ideale dell'iniziativa organizzata dal comitato Five Days Italy con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Orientamento ed in collaborazione con i comuni di Auronzo e Comelico Superiore. Tutto pronto, siamo ormai a poco più di due settimane, abbiamo superato i 1000 iscritti, 29 paesi rappresentati e 5 tappe con il via ad Auronzo il 30 giugno, 1-2 luglio, Misurina, in prossimità del lago, per chiudere in bellezza nel Comelico Superiore con la tappa di Val Grande e Padola. L'event center sarà fissato ad Auronzo e, come ho detto, le finali a Comelico Superiore, un'area bellissima, un patrimonio unesco che chi ama la natura e lo sport dell'orientamento non può perdere. Dopo l'evento, alcuni percorsi con lunghezze e difficoltà differenti diventeranno permanenti grazie all'utilizzo delle mappe appositamente create per l'occasione. Sì, le cartine sono state realizzate e avranno, come dire, una ricaduta anche in futuro nel territorio, in quanto possono essere riutilizzate e quindi anche i turisti che si susseguiranno negli anni a venire potranno utilizzarle e, come dire, ricalcare i percorsi che sono già stati utilizzati per questa manifestazione. Un'opportunità di sviluppo ulteriore del territorio bellunese attraverso nuovi mercati. Gli appassionati orientini sono soprattutto scandinavi e questo è un mercato per noi molto importante che abbiamo iniziato a sondare lo scorso anno, un mercato autospendente che arriva nelle Dolomiti e cerca proprio la natura, la bellezza dei luoghi, lo stare all'aria aperta e anche il mangiare bene come noi riusciamo a offrire.